buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi sabato 4 maggio siamo in un weekend maggio comincia un po così a connaturarsi con la sua veste primaverile però insomma stamattina non è che il tempo sia un granché dobbiamo dire si pensava anzi si era detto che durante l'avvicinarsi della domenica il tempo doveva migliorare ma stamattina insomma il cielo abbiamo parecchie nubi ne parliamo tra breve prima però passiamo come sempre attraverso l'almanacco del giorno per vedere chi si festeggia oggi eccolo il santo e san ciriaco è un santo che conosciamo anche noi perché è il patrono di ancona è la chiesa bellissima la bella chiesa romanica che svetta sul promontorio di ancona è un'icona per tutte le marche san ciriaco di gerusalemme lo conosciamo appunto per questa sua presenza nelle marche fu un santo che nacque in palestina ma poi venne appunto nella in italia e si fermò nelle marche di cui fu vescovo fu vescovo di ancona e fu lui pensate ad indicare alla madre di imperatore costantino la sant'elena fu fu lui ad indicare come ritrovare i resti della croce nella cisterna che era nel calvario e grazie all'indicazione fornite dal vescovo la madre di costantino riuscì appunto a identificare quella che si dice che sia la vera croce e a portare tante reliquie che sono sparse un po in diverse chiese dell'italia ancora oggi ciriaco però cadde sotto la persecuzione dell'imperatore giuliano l'apostola e dunque fu anche lui martirizzato le sue reliquie riposano in un urna molto molto preziosa custodita nella cattedrale di ancona questo è san ciriaco di gerusalemme ed ora vediamo le previsioni del tempo abbiamo detto che non sono molto molto belle al momento speriamo che migliorino per quanto riguarda la giornata di oggi ecco vediamo che nella regione marchi appaiono tante tante nuvolette e dopo i residui piovaschi entro il mattino stamattina pioveva nubi irregolari con rara con rara instabilità con rada anzi scusate rada instabilità di un tra il fabrianese e l'apennino le massime sono in ascesa e temperature 13 la minima 20 la massima i venti sulle coste spirano con una tensione media da nord ovest mentre nell'interno da ovest sud ovest il mare è leggermente mosso il sole è sorto alle 5 56 e tramonterà alle 20 e 12 e bene fatta questa prolusione possiamo aprire i giornali a partire oggi dal corriere adriatico sulla pagina di fano ma vediamo che l'argomento costituisce un'apertura anche sul resto del carlino perché la notizia diffusa ieri dai mass media che la corte europea dei diritti dell'uomo ha dato torto al gite museum che si era opposto alla sentenza di confisca pronunciata dal tribunale di pesaro per quanto riguarda il lisippo la statua del giovinetto che si incorona attribuita all'isippo ebbene la deve restituire il museo deve restituire ebbene allora sorge una un problema dove metterla se poi ce la ridanno veramente questa statua e bisogna trovare un modo un forse realizzare un museo nuovo oppure adibire e ristrutturare un locale già presente in modo che si adatti per raccogliere un reperto così importante così veramente forse unico degli originali esistenti ancora attribuiti allo scultore lisippo che pensate era lo scultore di alessandro magno e quindi siamo nel periodo ellenistico dell'arte greca un periodo in cui la classicità si trasforma perché dai canoni classici diventano canoni un pochino più umani un pochino più flessibili un pochino più riconoscibili specialmente per quanto riguarda i volti delle statue non sono più quelle quei volti idealizzati che avevano un canone sublime di bellezza nel periodo classico ma diventano più umani e si dipingono ma si scolpiscono anche le rughe le espressioni l'intensità degli sguardi e questo è il periodo ellenismo dell'ellenismo allora vediamo il titolo che appare oggi sul Corriere Adriatico si parla dell'assessore alla cultura fattori che dice che se ce lo ridanno illisippo lo metteremo nell'ex filanda perché lì c'è già un progetto che è stato avviato utilizzeremo i 6 milioni messi a disposizione da un bando che il comune di Fano ha vinto sono soldi che verranno dati negli anni al momento sarebbero disponibili 380 mila euro come ha dichiarato l'assessore era già pronto un progetto pronto per aprire il teatro romano per quest'estate ma poi con questo nuovo impulso con queste nuove risorse si farà una cosa più in grande e quindi il progetto è da rifare e bisogna così dare l'incarico a una nuova personalità in modo che si costruisca veramente una cosa di più di rilievo ecco di maggiore rilievo ma poi c'è una cosa sopravenuta ancora ancora di più c'è stato un convegno a Roma per la presentazione di un libro sul lisippo ebbene in questo contesto il direttore generale dei musei che appartiene ovviamente al ministero della cultura ha detto che a Fano si tratta di Osanna ha detto che a Fano occorre realizzare un nuovo museo un museo dell'arte salvata ed ecco dunque che c'è un nuovo impegno che si sovrappone ai progetti che il comune di Fano sta realizzando perché a Fano venga realizzato veramente un contenitore eccezionale per ospitare il lisippo e poi ci sono diverse soluzioni e le vediamo adesso sul giornale c'è appunto l'assessore alla cultura Cora Fattori che evidenzia come l'ex Filanda sia il contenitore adatto ex Filanda che è da battere e poi da ricostruire ma vediamo anche le altre soluzioni proposte qui dal resto del Carlino vediamo che si parla di Palazzo Marcolini un grande contenitore attualmente vuoto dopo che è stato trasferito il liceo artistico a San Lanzaro vediamo che c'è anche la caserma Paolini anche lì ci sono dei grandi immobili vuoti al momento c'è la sala Morganti che può costituire magari un contenitore temporaneo in attesa che gli altri siano opportunamente ristrutturati e c'è anche la chiesa di San Michele che viene identificata in modo particolare dal candidato sindaco Luca Serfilippi mentre una opportunità per quanto riguarda altre soluzioni vengono evidenziate da altri due candidati sindaco ovvero da Stefano Marchigiani e da Cristian Fanesi che identifica il Museo del Mare come il luogo più adatto per contenere e esporre la Stato bene dunque si parla ancora il dibattito sull'ISIP ormai appare sulla stampa da tantissimi tantissimi anni e basta una piccolezza perché torni alla ribalta con tutta la virulenza che ha questa aspettativa per Fano per ricevere questo bene che ha perduto inopinatamente così forse per ignoranza culturale degli anni 60 nel 1964 quando un equipaggio di un peschereggio pescò questo mirabile capolavoro nelle profondità dell'Adriatico passiamo ad un altro argomento che è ugualmente molto importante perché poi interessa le tasche di molti fanesi ma non solo di molti fanesi anche di molte persone che passano per Fano si parla degli autovelox al tuo momento gli autovelox sono spenti non sono più in funzione non sono più in funzione perché la loro regolarità non è stata riconosciuta e quindi sono stati spenti alla fine l'autovelox di Metauriglia in modo particolare quello che mieteva più vittime perché lì c'è un rettilineo un rettilineo in cui non è molto facile mantenere una velocità di 50 km all'ora e quindi lì le multe fioccavano dobbiamo dire con piuttosto intensamente ebbene alla fine l'autovelox di Metauriglia spento dopo una sentenza della Corte di Cassazione perché non omologato ha messo anche nei guai gli amministratori perché insomma adesso c'è stata una denuncia che è stata presentata dal Presidente dell'Associazione Nazionale Alto Velox Gian Antonio Sottile il quale giovedì ha sporto denuncia al Procuratore Generale della Corte d'Appello di Ancona e al Procuratore Capo del Tribunale di Pesaro per ravvisate condotte contra le gem nell'utilizzo di rilevatori elettronici di velocità insomma ora si imputa la responsabilità di avere utilizzato questi apparecchi che non sarebbero omologati quindi che non sarebbero in sintonia con la legge da chi li ha appunto messi nelle strade però comunque c'era anche lì il parere della Prefettura insomma c'era tutto un procedimento burocratico legale che doveva essere osservato e quindi ci sono autorizzazioni sovrapposte che dovranno essere vagliate poi dai giudici che dovranno dirimere questa situazione Alto Velox illegali inviato l'esposto vediamo anche una nuova iniziativa che è stata presentata ieri e che si svolgerà in tre giorni dal 17 al 19 maggio nella città di Fano eccola qua l'articolo che la riguarda questo qua Fitness, il festival scalda i motori tre giorni per allenarsi all'aperto sono tre giorni dedicati all'efficienza fisica all'esercizio fisico ma anche all'esercizio fisico collegato a quello mentale perché poi ci sono anche questi esercizi tipo yoga tipo spiritualità collegata alle movenze fisiche insomma sono quelle cose che incentivano una serenità un benessere non solo fisico ma anche spirituale e poi ci sono ovviamente gli esercizi fisici quelli attivi quelli insomma di una certa forza energetica ebbene sono tre giorni che in tre località di Fano si riempieranno di tante tante iniziative e sono il Pincio, la Darsena Borghese e la Rocca Malatestiana si paga un biglietto di 12 euro però insomma ci si immerge veramente grazie a dei ragazzi che sono veramente acuti e anche attenti a questa problematica e a questo settore della vita sociale per dare ai ragazzi quel modo di esprimersi con l'efficienza fisica che fa bene al corpo e come dicevo anche all'anima passiamo ora ad un fatto veramente disdicevole ci sono delle profanazioni nei cimiteri che vanno del tutto condannate come quella che è accaduto nel cimitero di Rosciano recentemente un fatto che evidenzia il segretario di Forza Italia Enzo Di Tommaso vandalizzata alla tomba di un ragazzino pensate che coraggio ha avuto questo vandalo che ha distrutto un ricordo che la mamma di questo ragazzino aveva posto sulla tomba del figlio era un trofeo che il ragazzo aveva vinto in una gara di pesca ebbene è stato distrutto vandalizzato pensate che dispetto ha fatto è successo al cimitero di Rosciano distrutto il trofeo vinto a una gara di pesca ma ci si accanisce anche sui crocifissi addirittura ebbene un fatto che viene veramente segnalato con tanta esacrazione da parte dell'esponente politico commissario comunale di Forza Italia che si è recato sul posto dopo la segnalazione della madre del defunto la signora era molto provata ha dichiarato e mi ha mostrato anche altre tombe dalle quali sono stati rubati i crocifissi e altri oggetti sacri dunque si tratterebbe non di un episodio isolato ma dell'ennesimo atto vandalico perpetrato in un campo santo dove episodi del genere non sono una novità purtroppo insomma come fare stare lì 24 ore su 24 un vigile urbano oppure un custode che deve girare un po' dappertutto ebbene si potrebbe fare però insomma la cosa non è certamente facile a Marotta c'è polemica per quanto riguarda le dichiarazioni sul turismo c'è un contrasto tra l'assessore Caporaletti e l'assessore appunto di Mondolfo che replica agli appunti mossi dall'albergatore ma anche ex consigliere regionale Rapa Boris Rapa ma quale luce riflessa dice appunto Caporaletti individuando Marotta come un caposaldo del turismo della zona sud della provincia di Peso Lulbino da noi ci sono solo iniziative di qualità e un batti e ribatti a Pergola invece nasce un nuovo soggetto politico eccolo qua nato il movimento Pergola al centro e Guidarelli sta alla finestra Guidarelli è il sindaco di Pergola si tratta di un schieramento ideato da Marco Oradei docente e fratello di Marta anche lei già impegnata in politica ebbene che cosa che cosa propone propone Pergola al centro è un programma che negli ultimi due anni ha coinvolto alcuni cittadini in un progetto che ha raccolto insieme nuove idee che potessero essere inserite nei programmi elettorali ebbene c'è stato poi un dialogo con entrambi gli schieramenti attuati quelli esistenti cioè Pergola unito insieme della sindaca uscente Simona Guidarelli e Pergola nel cuore quella guidata da Antonio Baldelli ottenendo una maggiore apertura dalla parte della lista di Guidarelli nella quale potrebbero esserci dei candidati di Pergola al centro quindi Pergola al centro sostiene la lista della Guidarelli e c'è un nuovo soggetto andiamo ad Urbino dove c'è il cordoglio per la scomparsa della professoressa Diana Sorini morta tragicamente nei giorni scorsi in un incidente automobilistico ebbene i familiari della professoressa hanno inviato una lettera aperta ai concittadini per così ringraziare per l'affetto mostrato alla loro congiunta un affetto hanno detto che ci ha davvero commossi a Urbino serve una biblioteca per dialogare una nuova biblioteca civica la proposta viene da Antonella Agnoli che è proprio un'esperta per quanto riguarda le biblioteche è stata presente anche a Fano in occasione dei compleanni della Mediateca Montanari è anche una delle animatrici della Biblioteca di San Giovanni di Pesaro nella città che verrà immaginata dal candidato sindaco Federico Scaramucci e dalla coalizione che lo sostiene Urbino dovrà ritrovare una maggiore socialità anche dal punto di vista culturale ed ora parliamo di un'iniziativa sportiva che sta avendo un grande successo ad Urbino si tratta di un'iniziativa che riguarda la bicicletta Raffaello Gravel si chiama raddoppia itinerari ancora più belli perché poi il nostro introterra con il suo bellissimo paesaggio non finisce mai di stupire e di offrire ancora maggiore spettacolarità a chi lo visita l'appuntamento è per il 15 e 16 giugno prevede nuovi tracciati quest'anno anche un'esposizione di prodotti della tradizione Urbinate si tratta quest'anno della terza edizione del Raffaello Gravel partenza e rientro saranno a Durbino e si potrà completare nell'arco di due giornate tutto l'itinerario si incroceranno il barco Ducale a Urmania il monastero di Fonte Avellana il castello di Frontone il Furlo il castello Brancaleoni a Piobico guardate che sono delle cose veramente molto molto belle e beh l'itinerario è da 104 chilometri ma anche si può ridurre a 68 e poi il giornale rievoca un fatto accaduto il 5 maggio del 1943 siamo in piena guerra seconda guerra mondiale i partigiani compirono un attentato alla caserma dei carabinieri di Cagli dove sostavano i soldati nazisti insomma i soldati tedeschi ebbene sbagliarono a usare la quantità dell'esplosivo ne misero troppa e la detonazione invece di aprire soltanto la porta della caserma sconquassò tutta la facciata dell'edificio e purtroppo morirono delle persone un testimone svela come andò 80 anni fa l'assalto alla caserma il 5 maggio siamo nel 44 non nel 43 però c'è una c'è una differenza i partigiani volevano fare un'azione dimostrativa ma le cose presero un'altra piega tra le vittime oltre al partigiano Imbriano Alessandri anche il figlio del maresciallo di Cagli quindi un episodio tragico in cui vanno accomunati vittime e coloro che hanno appunto ordito l'attentato tutti insieme in un ricordo che va ugualmente che desta ugualmente commozione ed ora ritorniamo al Corriere Adriatico abbiamo parlato del del Lisippo e qui invece abbiamo una presa di posizione del Movimento 5 Stelle per quanto riguarda i temi che insomma caratterizzano l'attuale campagna elettorale il tema principale è quello della sicurezza ma non bisogna dimenticare il tema della sanità ebbene questi due temi vengono così posti alla ribalta dal Movimento 5 Stelle dicendo che la vera sicurezza sia quella della tutela dell'ordine pubblico ma la vera sicurezza è anche quella di assicurare una buona tutela alla salute dei nostri cittadini e questo al momento non avviene se Filippi latita la regione tace Fontana e Panaroni che sono due consiglieri comunali appunto del Movimento 5 Stelle intervengono sul bubone esploso per le liste d'attesa e degli esami chiuse ebbene liste d'attesa per gli esami specialistici la protesta si allarga a macchia d'olio pensate quante sono lunghe le liste di attesa per avere un esame un riscontro magari ci sono anche situazioni che avrebbero un riscontro presto perché poi le malattie procedono in maniera spedita invece occorrono tempi lunghi ora sono Giovanni Fontana e Francesco Panaroni consiglieri comunali uscenti che puntano il dito sull'accusa il dito dell'accusa contro il silenzio di giunta maggioranza marchigiana è la regione impegnata su questo settore che non riesce ancora a risolvere questi problemi e dobbiamo dire che anche la campagna elettorale di Ser Filippi insomma un pochino devia il problema della sanità ma comunque Ser Filippi lo sentiremo oggi alle 10 al Politeama dove il candidato sindaco del centrodestra presenterà il suo programma e vedremo dunque il rilievo che avrà la sanità sanità che è di competenza dobbiamo dire rilevante della regione Marche perché il sindaco si è responsabile sanitario del territorio però insomma le leve del comando ce l'hanno in regione e vedremo quello che potrà fare il sindaco appunto il prossimo sindaco che governerà la città per i prossimi cinque anni una bella iniziativa si è attuata nel carcere di Fossombrone dove gli studenti di due classi di due classi quinte dell'ITIS di Urbino sono state invitate a visitare il carcere questa è un'esperienza che dovrebbero fare molte molte persone studenti ma anche lavoratori vedere che cosa accade dentro un carcere che cosa consiste essere carcerati qual è la vita che conducono i carcerati e soprattutto quali sono le reazioni di coloro che scontano le pene il procuratore Roberti ha accompagnato Fossombrone due classi quinte dell'ITIS di Urbino sono state veramente delle esperienze costruttive sia da parte degli studenti ma anche da parte dei carcerati che hanno avuto modo di esprimere i loro sentimenti i loro propositi la loro situazione ai ragazzi affinché questi non commentano gli stessi errori a Cantiano si svolge invece a Chiaserna diciamo meglio si svolge la fiera del cavallo la razza di Chiaserna è una è la razza marchigiana tipica c'è solo quella la razza del cavallo di Chiaserna che è una bellissima razza e quindi un appuntamento di carattere agricolo di carattere anche economico diciamo meglio per quanto riguarda la regione perché il cavallo l'allevamento è ancora un settore molto coltivato in quel territorio valutazioni e prove oggi e domani a Cantiano spettacoli acrobatici e festival del turismo sostenibile quindi una bella passeggiata fino a Cantiano per vedere questi bellissimi cavalli nel centro ipico la badia a Chiaserna vediamo anche la pagina di Senigallia ed è l'ultima notizia che vi propongo che vi propongo nella giornata di oggi purtroppo si tratta di un lutto colpito da un'embolia muore a Cuba Paolo Tofani 55 anni era di Marina di Monte Marciano purtroppo è stato punto da una zanzara che gli ha trasmesso il pericoloso virus del dengue così si chiama questa malattia una malattia che produce forti febbre mal di testa dolori articolari e purtroppo in qualche caso anche la morte in questo caso appunto Paolo Tofani è stato ucciso da una embolia provocata da questo minuscolo insetto che lo ha punto e con questa notizia terminiamo la nostra rassegna stampa io vi auguro un buon weekend domani c'è la Colle Marathon quindi uno spettacolo grandissimo da osservare ma anche da praticare per chi vuole impegnarsi in una distanza che varia 10 chilometri di meno 40 insomma chi se la fa se la se la faccia e quindi facciamo tanti tanti auguri a tutti coloro sono oltre mille i concorrenti a questa bellissima gara grazie per l'ascolto a risentirci ci vediamo lunedì alle 7 buona giornata grazie per la visione